In questi giorni si parla tanto di prevenzione con un occhio di riguardo per le donne. La prevenzione del tumore al seno è fondamentale, però in alcuni casi purtroppo la malattia fa il suo corso. Nei momenti più difficili la breast unit della spezia, che contiene tantissime professionalità di alto livello, ne ha un'altra, che è quella della psico-oncologa, che è il ruolo che lei ricopre all'interno della breast unit. Sì, è un servizio che ci permette di consegnare insieme, quindi il chirurgo e chi ha effettuato il lago aspirato, il referto alla paziente. Quello è un momento assolutamente delicato, perché è come se la paziente iniziasse a prendere consapevolezza e desse un nome a quello che ha. E quindi è l'inizio di un viaggio. Il poter essere presente in quella sede vuol dire poter accogliere, dove c'è desiderio per questa accoglienza, e inizierà a fare un viaggio insieme, la paziente e tutti i familiari. E in quel momento c'è un incontro di sguardi, ma anche di possibilità. Il poter raccogliere insieme già quell'emozione in quel momento ci permette di iniziare un viaggio condiviso. E in quel momento che, insomma, un po' tutto il mondo sembra schiacciarti, è importante avere una persona che possa farlo con te, come tutte le figure della breast, perché l'intenzione è accompagnare la paziente in questo viaggio cercando di non farla perdere. E quindi l'intenzione di tutta la breast è proprio questa. Rimangono tre figure ad accoglierla per non dare chiaramente un effetto di troppe persone. C'è un'equipe prima che si riunisce, decide il percorso da fare, e poi insieme al chirurgo, io e il dottore, l'oncologo, anzi il senologo, che ha effettuato il lago aspirato, insieme cerchiamo di accompagnare la paziente verso questo viaggio.